Alla conferenza stampa sulla sicurezza di questa mattina in prefettura è intervenuto anche il sindaco di Verona Federico Sbuarina, particolarmente soddisfatto sia per i dati che indicano come il numero complessivo di reati rispetto al 2018 sia in calo, sia per l'arrivo a marzo di nuovi agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, che contribuiranno a garantire ancora maggiore presidio sul territorio comunale. Particolarmente soddisfatto non tanto e non solo per i numeri in sé, ma perché i numeri certificano che il lavoro che è stato fatto da tutte le forze dell'ordine dell'amministrazione in questi ultimi anni è un lavoro importante che dà dei risultati importanti e questo in primi serve per comunicare una maggior percezione di sicurezza ai nostri concittadini che la percepiscono nella quotidianità ma la percepiscono anche attraverso le notizie che anche attraverso di voi gli arrivano. È ovvio che io dico sempre, come lo dico ogni anno, che su questo si va a vedere quello è il bicchiere mezzo vuoto, non quello mezzo pieno che ormai sta diventando molto più che mezzo pieno, ma bisogna andare a vedere quello mezzo vuoto per andare ad incidere sempre di più. In questa direzione i 65 nuovi assunti, 55 agenti e 10 ufficiali di polizia locale, PICO, cane antidroga che ci serve nella lotta senza quartiere, fuori dalle scuole contro la droga, i nuovi agenti che arriveranno della polizia di Stato, ne abbiamo parlato col comandante della polizia nelle settimane scorse e quindi nuovi strumenti in termini economici, in termini operativi per fare in modo che ogni anno, anche l'anno prossimo, ci venga detto dai dati, dall'analisi, dai numeri creati, soprattutto quelli contro la persona e contro il patrimonio che sono quelli che ci colpiscono di più, i furti in casa, i borseggi, queste cose qua siano in continua diminuzione.